Giulia Peditti è la fidanzata di Dargen D'Amico, ecco cosa sappiamo sulla loro relazione, pare che i due siano anche usciti in coppia con Chiara Ferragni e Fedez. Chi è Giulia Peditto e perché è amica di Chiara Ferragni, Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D'Amico, il cantante caratterizzato dai suoi occhiali da sole neri che ha fatto ballare l'Italia dal palco dell'Ariston di Sanremo con il suo brano, Dove si balla. Giulia è una ragazza di 29 anni di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. E, un'imprenditrice e un'insegnante di fitness, molto attiva sui social, o meglio, una vera e propria influencer, che ama mostrare ciò che le piace fare e anche parte del suo lavoro. Giulia fa lezioni di yoga online tramite Studio 8 ma tiene anche dei corsi privati. L'amore per lo yoga è tantissimo e la stessa Giulia ha dichiarato, insegno yoga perché mi rende felice e perché il quotidiano confronto con i miei studenti mi arricchisce su molti aspetti sia umani sia yogici. Tra i suoi studenti di yoga ci sono molti influencer e star del mondo dello spettacolo, Pina e Diego Passoni, Valentina e Francesca Ferragni ma anche Chiara Ferragni, che oltre ad essere un'alunna di yoga è anche una sua amica. Su Instagram ha più di 24.000 followers che amano seguire le sue dirette di yoga. Giulia Peditto e Dargen D'Amico Ecco le prove della loro storia d'amore, Giulia Peditto è la fidanzata del cantante Dargen D'Amico ma una domanda sorge spontanea, come sappiamo che i due sono una coppia se entrambi sono molto riservati e non hanno alcuna foto insieme? Sappiamo tutti che il cantante non mostra mai nulla in merito alla sua vita privata, ci tiene molto e anche i suoi occhiali neri lo dimostrano. Il cantante non toglie mai i suoi occhiali da sole neri e in alcune interviste aveva spiegato, io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare sempre tutto di sé, da una semplice frase possiamo capire come sia impensabile il fatto che Dargen possa raccontare o confermare qualcosa in merito alla sua love story. Fortunatamente però, i suoi fan sono molto attenti. Secondo i fan di Dargen, Giulia sarebbe stata vicino a lui a Sanremo per sostenerlo, i due hanno anche partecipato al lancio della serie, The Ferragnez, essendo entrambi amici di Fedez e Chiara Ferragni ma non è finita qui. I fan di Dargen hanno visto molte foto senza alcun tag, in cui i due sono sempre seduti uno accanto all'altra e alcune storie di Chiara Ferragni mostrano lei e il marito in uscite a quattro proprio insieme ad Argen e Giulia. Tutto fa pensare che i due siano una coppia.